Allora, Polisportiva Terraglio è una società sportiva dilettantistica presente sul territorio qui del Veneziano, in questa sede in particolare qui la località favorita dal 1985, quindi in realtà con una storia molto importante alle spalle. Abbiamo circa una quindicina di dipendenti e circa 100-120 collaboratori sportivi a vario titolo. La nostra è una polisportiva abbastanza grande con circa 5-6 mila utenti che girano e ci occupiamo principalmente di attività natatorie, quindi scuola nuoto e tutto quello che riguarda il nuoto sostanzialmente e attività anche diciamo di palestra. Siamo conosciuti sul territorio non solo qui del Veneziano ma un po' di tutto il Veneto per la nostra attività con atleti e persone con disabilità. Da Polisportiva Terraglio è poi nata nel corso degli anni anche un altro ramo d'azienda che si occupa di riabilitazione, quindi abbiamo abbinato il mondo dello sport e il mondo della riabilitazione in un progetto che ci contraddistingue che si chiama Progetto 3S perché mette insieme sociale, sportivo e sanitario. Per contattarci il nostro sito è costantemente aggiornato polisportiva-terraglio.com oppure la segreteria 041 94 25 34 l'indirizzo mail generico è info-terraglio.com